Serata conclusiva del Grande Fratello 11. Il vincitore è Andrea Cocco. Il reality di Canale 5, condotto da Alessia Marcuzzi, è arrivato a conclusione dopo sei mesi ininterrotti di gioco. I quattro finalisti, Andrea, Margherita, Ferdinando e Jimmy, si sono contesi il monte premi finale di 300.000 euro in quest'ultima serata. Il Grande Fratello 11 è stato un fenomeno mediatico. Su internet è stato il fenomeno più cliccato e condiviso, e ha ottenuto ottimi risultati di audience con una media di 5 milioni di telespettatori a puntata. I primi ad essere esclusi dalla finale, sono stati Jimmy Barba, personaggio estrionico di questa edizione, e Margherita Zanatta, vincitrice morale della trasmissione. Andrea Cocco, madre giapponese, padre italiano, è un connubio ben bilanciato tra Oriente e Occidente. Ai tratti, la gentilezza e la grazia degli orientali e, allo stesso tempo, la spontaneità e la schiettezza di un italiano doc. Cittadino del mondo, è cresciuto a Roma ma, dopo il liceo, ha iniziato a viaggiare, lavorando come modello e come PR a Parigi, New York, in Giappone, Thailandia e Hong Kong. Grazie. 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 Grazie.